Ottava vittoria consecutiva per l'etrusca San Mignato che vendica l'unica sconfitta subita finora e supera la Sinermaticozzano per 76-67. Nonostante l'assenza di Santini e con Benites in condizioni fisiche non perfette, gli uomini di coach Barzotti hanno fornito l'ennesima ottima prova corale che ha visto miglior realizzatore ancora una volta Carpanzano con 24 punti, con 15 di Tozzi ed 11 di Neri. Con questa vittoria Empoli mantiene la testa della classifica a 20 punti, seguita da Chiusi con 18 e Livorno a 14. E domenica, alle ore 18, la sfida è in trasferta proprio contro la Opus Libertas Livorno, squadra partita con i favori del pronostico ma che finora ha avuto un andamento troppo altalenante. Sapevamo che era una gara difficile, infatti così è stata, è stata una settimana difficoltosa, comunque abbiamo degli infortuni, il nostro capitano era un po' aggiocato però era dolorante e abbiamo anche Santini fuori, comunque è stata una gara difficile, dura, faticosa. Abbiamo sofferto questa squadra all'andata però oggi comunque ha discapito di qualche errore, però abbiamo retto botte, è stato duri e alla fine l'abbiamo portata a caso. Una vittoria che era complicatissima, nasceva complicatissima per tanti aspetti, la settimana è stata travagliatissima, non ci siamo allenati con l'intensità e i ritmi soliti e secondo me oggi questo sbagliando colpevolmente l'abbiamo un po' pagata, ci siamo un pochino adeguati in certi momenti ai ritmi dell'allenamento che sono stati per forza di cose un pochino diversi dal solito. Abbiamo avuto tante occasioni per azzannarla e chiuderla perché sapevamo proprio che sul finale questa è una squadra che ha dei grandi tiratori, che poteva con anche giocate individuali come aveva fatto all'andata piazzare due canestre e riaprirla, siamo stati bravi perché ci siamo creati un bel bottino, se non sbaglio sono andati a più di 17 a un certo punto e poi sulla loro rimonta abbiamo gestito il vantaggio tranquillamente avendo tante volte il canestro per chiuderla con grande maturità.